giustizia è fatta ragazzi, è definitiva la condanna a quelle due merda lì come si chiamano Olindo e Rosa lì sua moglie che avevano ammazzato quella donna col bambino il vicino non so quant'era non mi ricordo neanche e quell'altra merda lì marocchino lì di dove cazzo è lì Armadouk lì come si chiama Arzouk che ha cercato anche stavolta in tutti i modi di tornare dicendo che stavano sbagliando hai capito questo qui dopo che avevano ammazzato la moglie e il bambino se ne andava in giro a fare insieme all'elemore a farle ospitate in discoteca e l'hanno beccato per spazio di droga due volte dopo e l'ha cacciato cacci in culo al tuo paese merda jack